24 medici di medicina generale sono coinvolti nell'accordo siglato oggi che riguarda tutto il territorio della nuova USL numero 1. Il documento punta su tre obiettivi. Il primo riguarda gli interventi di promozione e di prevenzione legati all'arrischio cardiovascolare, negli ipertesi e nei diabetici e legati anche agli screening per la diagnosi precoce. Il secondo obiettivo è l'appropriatezza delle prescrizioni farmacologiche per il contenimento delle liste d'attesa. L'ultimo riguarda il miglioramento dell'organizzazione territoriale attraverso l'integrazione tra servizi distrettuali, medici di medicina generale ed equip territoriali.